Attenzione, sei in inferiorità numerica. Se si mette male disingaggia. La torre dell'orologio è più avanti. Bel lavoro. Cerca un quadro elettrico. Spegnendo le luci avremo un vantaggio. A quanto pare Alcatala ha degli ostaggi. Scopri se adire là. Potrebbe avere Barcov. Cerca il prigioniero nella torre dell'orologio. Bisuale persa. Per adesso sei da solo. Chiara. Hai ancora qualche costo? anti-arrivo. Forse si vede. Sai dove si trova? Idiota! Hai ancora qualche costo lento? Nessuna traccia di a dire. Ma hanno un pigoglio. Scopri cosa fa l'ostaggio. Qualunque cosa possa portarci a tanto. Non tradirò la mia famiglia. Questo non dirà altro. Controlla se quelli alla piscina e in chiesa sono messi meglio. Attenzione, furgone nemico di pattuglia. Mantieni le distanze. Minune! Non ho visuale. Devi arrangiarti da solo. No, no, no. Sì, 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 sì. Possessi. Ti vedo di nuovo Nemici alla tua destra Sono in allesa, mantieni un profilo basso e non ti individueranno Fulgone nemico dietro di te Sogni d'oro Veicolo nemico, non ingaggiare Ci penso io, pazienza Sei vicino alla piscina Sogni d'oro C'è un lucernario sopra la piscina Usano per raggiungere il prigioniero Veicolo nemico, non ingaggiare C'è un lucernario C'è un lucernario C'è un lucernario C'è un lucernario È mio Per terra La chiesa è a sud Stanno interrogando il prigioniero in chiesa Ottima uccisione Bel corto Dov'è il laboratorio? Aspetta Aspetta Quello è vicino a un altro versaggio E' questo È questo che vuoi In piedi Andare avanti all'infinito Quello è mio Fai il forbo E' questo che vuoi Un croce Dove te il carro Lascia un te il carro Dove 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 te il carro E' questo che vuoi Devi solo dirmi dove è barco Voglio la posizione Dimmi la sua posizione Me lo dirai Non è a dire E' un altro prigioniero Vedo se riesci a parlare La mia famiglia Mi salverà Cazzo Capitano I prigionieri Sono parenti di Barkov Barkov ha invaso la casa E ora lui ha invaso la sua Vai alla piscina ora Se hanno un ostaggio Non resisterà a lungo Quella luce Te l'ho spenta io Prego Voglio non scidermi Non attaccare Non ti vedo più Mi raccomando Non abbandonarmi Liberami Ti prego Devi liberarmi Riesco a vederti Kyle Riesco a vederti Kyle Riesco a vederti Kyle Riesco a vederti Kyle Non c'è molta attività vicino alla casa principale Per ora puoi ignorarla Stai giù Sarei più difficile da individuare Eurei più Eurei più Sei vicino alla piscina Aumentano la sicurezza Hai altre pattuglie in arrivo dalla casa principale Pare che il nostro uomo sia lì Vai e tiralo fuori Vai a sud e troverai un quadro elettrico Visuale persa, per adesso sei da solo Varur Si 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 A Si Sì, non lo so, non lo so. l'amoreto è pulito vai verso la piscina a dire potrebbe avere un altro stagio vedo un amico non è a dire scopri se l'ostagio ha parlato di barco secondo piano 451 ha parlato sta dicendo secondo piano 451 non abbiamo altro vai all'ultimo piano della casa principale ci vediamo sul posto secondo piano 4G Grazie a tutti